Sì, mi hanno dato queste idee di zipre, zipre, psa, psa. Chi sei tu? Falla più in là, più in là, alla fontanella. Sbatte quando gallina, rovescia le cose. È stato a quel punto che è arrivata la seconda volante. Un uomo, un uomo, non morde nessuno. Li guarda, sono in tre, fissi l'acciaio della brandina. Non riesci neppure a piangere. L'ho aspettato, ho aspettato. Grazie. 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 Grazie.